Con Ryanair in questo periodo se ne sentono di ogni, bagagli, nuove regole, carte d'imbarco, check-in online. Allora, tante sono stronzate, tante sono fake news, tante sono cose vere, che sono cambiamenti che verranno messi in atto non all'istante e tante sono possibilità, tante sono annunci, verranno fatti sì, ma bisogna far chiarezza. Poi, in mezzo a tutto questo marasma di novità, ci sono anche delle fake news importanti che vengono alimentate da non si sa chi, si sa chi, ma vabbè, non si sa chi e vanno a far confusione. Ecco perché facciamo questo video, ecco perché si parla ancora di Ryanair a poche settimane dal video in cui ti facevo vedere la procedura di check-in online da app, che ti ricordo, importantissima al momento è quella, quindi non cambia nulla. Nel momento in cui cambia qualcosa io faccio l'aggiornamento, non ti preoccupare, ma questo video appunto andrà a cercare di rispondere con la formula domanda-risposta a quesiti che possono essere veri, possono essere falsi, possono essere in quel limbo di vero-falso che è a seconda di come li interpretiamo. Noi proveremo a fare chiarezza. Cominciamo subito e non perdiamo altro tempo. Quello che vedete su tutti i giornali, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse è Ryanair farà soltanto il check-in online, eliminerà del tutto il check-in in aeroporto e la carta d'imbarco sarà solo online, da app. Soltanto da app non esisterà più il cartaceo di carta d'imbarco. In questo caso le notizie e i contenuti sono due. Da una parte c'è il check-in online e la carta d'imbarco solo da app. Dall'altra parte abbiamo il check-in online o check-in in aeroporto. Partiamo dalla parte check-in online o check-in in aeroporto. È vero, Ryanair con il suo CEO Michael O'Leary ha dichiarato che entro maggio 2025, quella è la data ma chiaramente non ha dato una data ufficiale, ha detto entro maggio 2025, vuole che in pratica il check-in in aeroporto venga eliminato del tutto. Al momento attuale il check-in di Ryanair può essere fatto solo online per la maggior parte delle tariffe, solo con la Flexi Plus che è la tariffa più cara. Hai la possibilità di fare il check-in in aeroporto gratuitamente, altrimenti lo puoi fare anche con le altre tariffe, ma se lo fai paghi 55 euro. Motivo di controversia assurdo, ma costa 55 euro se hai una qualsiasi tariffa che non sia la Flexi Plus. Quello che è stato dichiarato è che entro maggio 2025 verranno eliminati i banchi check-in in aeroporto. Questa è una notizia parzialmente vera, nel senso che sì, non si potrà più fare il check-in fisico, il check-in sarà soltanto online, quindi verrà totalmente eliminato il check-in fisico. Anche per la Flexi Plus non ci sarà più dentro il check-in in aeroporto gratuito, ma si farà soltanto la consegna bagagli, quindi i banchi rimarranno, a meno che non ci siano aeroporti dove sia tutto automatizzato, ma sono ancora pochi. Quindi i banchi del check-in, che non sarà più check-in perché non si potrà più fare il check-in, saranno soltanto banchi di consegna bagagli, come sono ora, perché anche ora la stragrande maggioranza delle persone fa il check-in online, per cui va soltanto a consegnare se ha dei bagagli da stiva. Quindi la notizia è vera, entro maggio 2025, ma poi potrà slittare, non lo sappiamo al momento attuale, il check-in in aeroporto verrà cancellato definitivamente per quanto riguarda Ryanair e non ci sarà più possibilità nemmeno a pagamento di farlo. Sarà veramente un problema per chi non lo fa, lo diranno in tutte le salse, ma il check-in sarà soltanto online e una volta in aeroporto potrete andare ai banchi, che ci saranno ancora nella stragrande maggioranza degli aeroporti, ma solo per consegnare i bagagli, un po' come succede adesso. L'unica grande differenza sarà appunto che non esisterà più la possibilità né a pagamento né all'interno di una tariffa più cara come la Flexi Plus di avere il check-in in aeroporto. Poi sempre all'interno di questa notizia c'è il discorso della carta d'imbarco cartacea o solo da app. Sì, allora, oltre il 60% delle persone al momento, ci dice Ryanair, utilizza l'applicazione per avere la carta d'imbarco e quindi non la stampa più. Bravi. Bene, entro maggio 2025, anche in questo caso, Ryanair ha deciso che la carta d'imbarco cartacea non esisterà più. Insomma, che voi facciate check-in online da app o che la facciate da computer, quello che vi verrà ridato è un QR code. Quindi quel QR code non lo potrete stampare, dovrete utilizzarlo da applicazione. Quindi dovrete scaricare l'applicazione di Ryanair. Dovrete scaricare l'applicazione di Ryanair e utilizzare il QR code per passare, diciamo, aprire il cancelletto che vi porta ai controlli per eventualmente farlo vedere ai banchi di accettazione bagagli quando spedite qualcosa in stiva e da utilizzare per salire sull'aereo come carta d'imbarco. Quindi la carta d'imbarco entro il 2025 ci dice Oliri che sarà soltanto da app. Questo è una notizia vera. Per cui cominciate a mentalizzarvi per chi ha problemi del tipo oh mi si scarica il cellulare quindi stampo. Cosa stranissima perché poi la stampa può strapparsi, può bagnarsi, può finire, perderla, tante cose. Non vedo questa certezza nella carta rispetto all'applicazione. Comunque a parte questi sono giudizi assolutamente miei dovrete comunque se volete viaggiare con Ryanair e non è un obbligo dovete mentalizzarvi sul fatto che da maggio 2025 più o meno poi magari verrà forse spostato un attimo dovrete utilizzare soltanto l'applicazione per avere la carta d'imbarco. Non ci saranno più carte d'imbarco cartacee. Sono assicurato con Eimondo per tutti i miei viaggi ormai dal 2018. Io ho l'assicurazione multiviaggio annuale che mi copre però con Eimondo puoi avere anche assicurazioni per viaggi singoli, assicurazioni annullamento, assicurazioni per viaggi a lunga permanenza e come dicevamo assicurazioni multiviaggio annuale, quella che ho io. E la cosa bellissima è che per tutta la nostra community, per me ma anche per tutta la nostra community abbiamo ottenuto da Eimondo lo sconto del 10% su qualsiasi prodotto andrai ad acquistare, qualunque delle assicurazioni che dicevamo prima. Non serve inserire codici o altro, devi solo entrare attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione e che trovi in tutti i video del canale YouTube di Viaggio Vero. Una volta entrato vedrai già dalla banda in alto sul sito di Eimondo che lo sconto è stato applicato. A questo punto perché ho scelto e amo Eimondo come assicurazione di viaggio? Semplicissimo, per tre motivi. Numero uno perché non devo anticipare soldi in caso di problemi e se abbatti la franchigia con pochi euro, beh a quel punto davvero non tiri fuori nemmeno un euro. Numero due perché hanno un'app chiara e semplicissima da utilizzare per contattarli in caso di problemi in italiano. Numero tre non meno importante perché tutti i loro prodotti sono chiari sotto tutti gli aspetti. So da subito quante e quali sono le coperture e decido io se aumentarle o meno. A questo punto entra con il link che trovi qui sotto in descrizione e che trovi in tutti i miei video qui sul canale YouTube. Prova a fare un preventivo, vedi che c'è il 10% di sconto e non prenderti rischi stupidi. Viaggia con l'assicurazione sempre anche in Europa, fuori dall'Italia anche in Europa. Sempre, sempre, sempre. Inoltre abbiamo uno sconto del 10%. Cosa stai aspettando? Seconda notizia che sta rimbalzando ovunque nelle ultime settimane. Il secondo bagaglio a mano costerà di più. aumenteranno i prezzi per il secondo bagaglio a mano, quindi per la priorità e secondo bagaglio a mano perché è un pacchetto completo che ti dà la possibilità di acquistare l'imbarco prioritario più un secondo bagaglio a mano, il classico 55-40-20. In quel momento se lo acquistatevi potete portare il 55-40-20 classico più il bagaglio piccolo 40-20-25 che è compreso in tutte le tariffe, quindi due bagagli a mano. Bene, la notizia è che questa opzione, quindi imbarco prioritario più secondo bagaglio a mano, 55-40-20, il prezzo crescerà. Non è del tutto così la notizia. Si aumenterà, ma aumenterà se non acquistato insieme alla prenotazione. Cosa voglio dire? Questo è un consiglio che noi diamo sempre all'interno di Viaggio Vero, di mentalizzarvi anche qui in questo caso, di che cosa vi serve, di quanti bagagli vi servono, di come volete volare, perché se acquistate in un momento successivo alla prenotazione il secondo bagaglio a mano insieme all'imbarco prioritario, in quel caso lì la tariffa aumenterà, ok? Quindi la notizia è stata se non acquistate il secondo bagaglio a mano quando prenotate il volo, contestualmente alla prenotazione del volo, sia come tariffa che come opzione cambia niente, però contestualmente alla prenotazione del volo acquistate il secondo bagaglio a mano, allora il prezzo è quello di adesso. Non cambia assolutamente niente. Anche qua i giornali mettono titoli, non fidatevi solo dei titoli, leggete bene l'articolo. Il prezzo del secondo bagaglio a mano più imbarco prioritario rimane identico se acquistato in fase di prenotazione. Come dovreste fare? Perché il buon utilizzo di questo acquisto opzione è in fase di prenotazione. Può capitare una volta perché cambiate modo di viaggiare oppure perché avviene qualcosa, c'è una variabile, allora decidete di comprare un secondo bagaglio a mano. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, anche in questo frangente, lo potete decidere prima. Volete viaggiare con il doppio bagaglio a mano? Decidetelo prima di prenotare. Quando prenotate, lo prenotate e avete la certezza di pagarlo come lo pagate ora, come l'avete pagato l'anno scorso, come l'avete pagato l'anno prima. Se lo acquistate dopo aver fatto la prenotazione, in un secondo momento, un mese dopo, due mesi dopo, due giorni prima della partenza, il secondo bagaglio a mano, se disponibile, costerà di più. Questa è la notizia. Giusto, sbagliato? Qui non stiamo a sindacare che sia giusto sbagliato. È una scelta aziendale. Se noi lo acquistiamo in fase di prenotazione, lo paghiamo uguale come lo paghiamo adesso. Quindi non è aumentato in fase di prenotazione, è aumentato se acquistato in un secondo momento, che già comunque costava di più. Ora costa ancora di più. Queste erano le due notizie, due barra tre notizie che hanno imperversato queste settimane e abbiamo fatto chiarezza. Ora però, insieme a queste due tre notizie, sono arrivati tutti i commenti di tante persone, anche a sproposito, che sparano cazzate, scusate il termine, ma diventano fake news veramente. Ora vediamo cos'è falso, perché attaccato, ripeto, a queste due tre notizie è arrivato di tutto e di più. Tante persone mi scrivono, non posso acquistare il secondo bagaglio a mano quando prenoto un volo, se faccio quella prenotazione per più persone, solo per una persona. Mi spiego meglio. Volate in due. Solo uno dei due vuole l'imbarco prioritario più il secondo bagaglio a mano, perché avete fatto i conti e con un bagaglio 55-40-20 e due bagagli piccoli 40-25-20 siete a posto. Quello che viene imputato a Ryanair è che non si possa comprare separati l'imbarco prioritario per una persona e invece per l'altra no. È falso. Io non capisco perché uno non possa smanettare un pochino di più sull'app o sul sito per capire, anche perché è vero. Se vi do assolutamente ragione sul fatto che non è super intuitivo, non è che non sia intuitivo, non è super intuitivo, nel senso che voi dovete mettere il secondo bagaglio a mano e imbarco prioritario e vi viene messo su tutte le persone che sono presenti in quella prenotazione. Voi lo scegliete e il primo passaggio è che ve lo mette su tutti. Però poi appare un pulsante, sia da app che da computer, che è gestisci bagagli. Se ci cliccate sopra, cosa che evidentemente non si fa perché se no a quel punto lì non ci sarebbe questo problema, se cliccate lì vedete la lista dei passeggeri con i bagagli che hanno e tutti hanno il doppio bagaglio a mano perché, ripeto, in fase iniziale va messo per tutti e potete tranquillamente toglierlo a chi non lo volete. Quindi è totalmente falso che con Ryanair, a differenza di EasyJet, di Pinco Pallino, non si possa creare una prenotazione per più persone e decidere per quale mettere il secondo bagaglio a mano e per quale no. È falso. C'è la possibilità assolutamente. Io lo faccio sempre, l'ho sempre fatto. Non sempre io e Silvia viaggiamo tutte e due con la priorità e il secondo bagaglio a mano. È capitato spesso che uno dei due non ce l'abbia e quindi l'ho sempre fatto. L'ho fatto anche recentemente. Quindi l'ho riprovato a fare perché volevo vedere se era cambiato qualcosa, ma non sarebbe legale farlo. Per cui è fattibilissimo. Basta stare un attimo attenti e controllare e che abbiamo sempre troppa fretta. Altra cosa che è apparsa in questi giorni e che non c'entra niente con tutto quello che abbiamo detto, ma veramente continua ad apparire. Comprate il cuscino Pinco Pallino, che è poi un cuscino fake, di quei cuscini che si mettono intorno al collo, che però è vuoto e lo riempite di vestiti, lo riempite di ogni ben di Dio e potete passare tranquillamente perché non è considerato secondo bagaglio a mano. Ora ragazzi, questo è falso perché se è vero che un cuscino non fa bagaglio a mano, un cuscino vero non fa bagaglio a mano, ormai non solo Ryanair, ma le compagnie in generale non sono delle idiote, non sono enti idioti, ok? In realtà idiote. Quindi se ne sono accorti. Non è che noi siamo più furbi. Ora, se prendete un classico cuscino, ok? Un classico cuscino, lo svuotate della sua, un classico cuscino da collo, lo svuotate della sua, se è svuotabile, e ci mettete dentro tre magliette, quello non vi dice niente a nessuno. Ma se comprate delle cose, non faccio nomi perché non li voglio fare, specifiche nate apposta per fregare Ryanair, o EasyJet, o Wizz Air, o Compagnia Bella, già ora possono fare delle multe che sono basse, ma credetemi, ve lo fanno passare come secondo bagaglio a mano. Non mancherà tanto, non mancherà tanto, perché semplicemente lo sanno che quello è un bagaglio e non è un cuscino, ma poi si vedono delle cose incredibili, si vedono questi cuscini enormi, queste cose, queste U enormi, tutte piene di bozzi, ma chi vi crede che è un cuscino che vi appoggiate? Come fate a appoggiarvi a una cosa del genere? È palese che quello è un bagaglio, e cioè, bella la furbizia, bello tutto, ma poi vi sgamano, cioè, all'inizio appena esce un prodotto può funzionare, perché non si è mai visto, ma dopo, se tutti ce l'hanno, o tantissimi ce l'hanno, è chiaro che le compagnere non sono delle realtà idiote, ve lo ripeto, non è che siamo più furbi noi, e non è che bisogna per forza fregare, c'è già una multa che è bassa, 5-10 euro, che viene applicata da alcuni aeroporti, se ci sono queste cose qua, la gente si arrabbia anche per quello, ma se anche non ti viene applicata la multa, prima o poi quegli oggetti lì saranno considerati bagagli, è inutile che ci giriamo intorno, perché è un cuscino, si riconosce, è palese che un cuscino è un cuscino, quindi attenzione ad andare in quella direzione, perché è una direzione che secondo me è sbagliata. Legato a questo io continuo a leggere in tante conversazioni che si vedono in rete, in gruppi Facebook, in canali YouTube, YouTuber che ve lo consigliano, ma fate quello che volete anche con Ryanair, non controllano mai, fatelo, è falso, completamente falso, vuol dire che non avete viaggiato abbastanza con Ryanair, perché non avete avuto modo di vedere quando Ryanair decide per quel volo di controllare tutto e di far partire anche il volo mezz'ora in ritardo, ma di controllare tutto perché vuol far soldi, sono stronzi, sì lo sono, ma controllano i centimetri, quindi attenzione, perché si vedono delle scene quasi apocalittiche e ripeto, poi dopo siamo noi italiani a dare il peggio di noi stessi quando succedono queste cose, quindi cercate di non dare retta alle persone che dicono non controllano mai, perché se vi va bene, lo dico sempre, otto volte, due volte su dieci pagate e pagate caro e dopo vi incazzate e fate casino e non fate una bella figura e sborsate più soldi di quello che avete risparmiato negli altri voli, quindi attenzione, un'altra fake news di quelle veramente estreme, ultimamente negli ultimi mesi ho visto passare delle notizie del tipo in Spagna l'associazione Pinco Pallino, ormai Pinco Pallino è ovunque, l'associazione Pinco Pallino ha vinto la causa sui bagagli a mano, ora Ryanair è obbligata a rimettere gratuitamente il bagaglio grande, il 55-40-20, sì è obbligata perché Pinco Pallino ha vinto in Spagna, falso, completamente falso, Ryanair come tutte le altre compagnie low cost, al momento attuale il 55-40-20 è a pagamento come opzione e non è a breve termine che il 55-40-20 tornerà il bagaglio gratis che potrete portare con voi, forse non tornerà mai più, perché? Perché deve essere l'Europa a obbligare le compagnie aeree, ma il problema è che anche tante altre compagnie tradizionali stanno andando in quella direzione, quindi nessuna Europa obbligherà le compagnie aeree a uniformare una misura, l'Europa dice che ci deve essere la possibilità di portare un bagaglio a mano e ora c'è, ragazzi non è che voi lo volete più grande e quindi l'Europa si adegua a voi, il bagaglio 40-25-20 o poco di più per altre compagnie è gratuito, è considerato bagaglio a mano e ce lo abbiamo gratuitamente, quindi nessuna Europa o mondo obbligherà mai le compagnie low cost a rimettere gratuito il bagaglio 55-40-20, nessuna associazione pinco pallino 1, 2, 3 che vincerà a cause con Ryanair farà sì che l'Europa obblighi una compagnia aerea a rimettere il bagaglio 55-40-20, magari ci sarà uno stato in cui questa compagnia vince qualcosa e la compagnia aerea dovrà pagare una multa, ma continuerà a fare quello che ha sempre fatto, non dovete credere me, dovete credere le regole, semplicemente quelle, le regole dicono che deve essere garantito la possibilità di portare un bagaglio a mano e non vengono date dimensioni, nel momento in cui l'Europa metterà obbligatorie delle dimensioni le compagnie aerea si dovranno adeguare al momento attuale di dimensioni, non ce ne sono, un altro punto fondamentale, mamma mia, questo qui è bellissimo, io per risparmiare non ho preso la scelta dei posti, parliamo sempre di Ryanair, cioè non hai acquistato la scelta dei posti a sedere, ma tanto ho i figli minorenni e riuniranno la famiglia, falso, completamente falso, può essere successo in un caso, in casi in cui l'aereo non era del tutto pieno, io vi ricordo che Ryanair vola mediamente con oltre il 90% di riempimento, per cui se avete volato una volta con un riempimento a metà è stato un caso, nella media Ryanair come Wizer volano con oltre il 90% di riempimento, quindi se è capitato che delle famiglie con minorenni siano state riunite, anche se non avevano preso la scelta dei posti a sedere, non succede sempre così, basta leggere la normativa del biglietto che avete acquistato, se leggessimo quello che acquistiamo forse non avremmo problemi di questo tipo, se il bambino è un infante o se il bambino è fino a una certa età, quindi è un bambino e non è un minorenne, perché io qua parlo di minorenni nel senso 12, 13, 14 anni, in quel caso lì non avete garanzia che ve lo mettano vicino o ve la mettano vicino, no, non ce l'avete, mi dispiace, con Ryanair non ce l'avete, quindi se volete e avete esigenza che la famiglia viaggi unita, dovete investire qualche soldino in più, perché sostanzialmente è quello che è, e comprare la scelta dei posti a sedere, altrimenti come tante famiglie non gliene frega niente per un'ora e mezza o due di volo e si viene spostati tranquillamente e la soluzione non è andare a chiedere a quella persona che è vicino a quello o quell'altro di spostarsi, perché ormai la scelta dei posti a sedere è utilizzata e acquistata da tantissime persone, quindi se io ho acquistato un posto e io spesso lo acquisto per motivi lavorativi, perché mi interessa avere quel posto, perché non voglio viaggiare seduto in quella posizione eccetera eccetera, io non mi sposto, ma non è cattiveria il fatto che non mi sposti, è che l'ho pagato quel posto, ho fatto quella scelta perché mi interessava avere quel posto, per cui perché devo spostarmi, perché mi dovete obbligare a spostarmi e sembra quasi che sia colpa mia, sembra quasi che sia io l'orco, il tiranno che non si sposta, il maleducato, che non rifare unire la famiglia, semplicemente io ho pagato, mi sono scelto il posto e voglio stare lì, ho visto anche questi casi assurdi in cui famiglie volevano assolutamente lo spostamento, no, c'è scritto ben chiaro e tondo, mi sembra assolutamente illogico pensare che per forza, solo perché si è famiglia, si debba fare delle strappi alle regole, gli strappi alle regole si fanno in casi più unici che rari, questo è sostanzialmente quello che succede, poi vi incazzerete, io non so cosa farvi, c'è una possibilità di soluzione, lo so, si paga qualcosa in più, ma è un servizio, è semplicemente un servizio che voi in maniera conscia decidete di non acquistare e ora veniamo a delle dichiarazioni vere invece, se rispetti le regole della compagnia, se rispetti le regole che sono una manciata, non avrai nessun problema, se rispetti le regole sui bagagli, se rispetti le regole dei posti, non avrai nessun problema, questa è una grande e assoluta verità, ok? Un'altra cosa, non ti piace Ryanair, ti risulta antipatica, dici peste corna di questa compagnia e non la sopporti e fai di tutto per parlarne male, spendi di più, impiega più tempo perché è meno capillare, magari la compagnia alternativa e fai altre scelte comunque, questa è un'altra grande verità, io conosco persone che con Ryanair non vogliono volare e io rispetto questa scelta, io ho sempre rispettato questa scelta, spendono di più, magari arrivano in aeroporti più centrali e poi devono spostarsi con mezzi pubblici, treni, bus per arrivare a visitare un luogo perché non hanno preso la Ryanair che invece capillarmente arrivava in quel posto, ma io ho un pieno rispetto, a me dà un po' più fastidio quando se ne dice peste corna, si pretendono cose e poi dopo si continua a utilizzare. Non è molto logica la situazione, non ti piace una compagnia? Non la utilizzi, le scelte, le alternative ci sono e come? È chiaro, impiegherai più tempo, spenderai di più, ma ci sono, nel momento in cui qualcosa ti fa risparmiare, non sono loro che devono venire incontro a te e adattarsi a te perché gli hai fatto il piacere di scegliere la loro realtà, sei tu che per risparmiare devi adattarti, semplicemente questo. Ma ripeto, rispettando le regole non si avranno mai nessun tipo di problema. Sono stato troppo duro? Ho urtato qualcuno? Mi dispiace, ma tante fake news arrivano, tanti commenti che mi arrivano hanno proprio il tono del io avevo diritto a questo e non mi è stato dato. Ora, le compagnie low cost sono delle bestie, Ryanair è una bestia ancora più forte, ok? Quindi poca assistenza, tutto quello che volete. Io dico peste e corna di queste realtà su tanti fattori, ma dico anche che io non potrei fare a meno di queste compagnie. E quindi continuo a rispettare le regole nel momento in cui acquisto. E se questo video urta qualcuno o dato fastidio a qualcuno perché quel qualcuno vuole assolutamente avere dei diritti che sostanzialmente un'azienda privata può non darti, perché semplicemente può non darteli per scelte commerciali, mi dispiace. Questo canale forse non fa per voi. Però detto questo, spero comunque di averti dato una mano, di averti fatto capire un po' come funzionano soprattutto le nuove regole perché queste sono importanti, non abbiamo ancora una data ufficiale, hanno detto entro maggio 2025, vedremo appena esce qualcosa di ufficiale, ci sono dei cambiamenti veri, farò dei video di aggiornamento. Quindi se questo video in qualche modo ti ha informato o fatto incazzare, allora un pollicione verso l'alto, non basso, balto. Mi fa piacere entri nella famiglia e per questo già ti ringrazio. Se non sei ancora iscritto o iscritta, fallo col pulsante qui sotto, è completamente gratis e rimani aggiornato appunto su nuovi video Ryanair, EasyJet, Wizz Air, quando cambia qualcosa e qui a fianco stanno passando due video appunto su Ryanair per i check-in online, per bagagli eccetera eccetera.